Dopo un lungo e anche complicato ITER, con il bene augurio di una giornata praticamente primaverile, consegniamo perlomeno un'idea di una bellissima cosa che entra a far parte del patrimonio. Di cosa si tratta? 15 anni fa il primo atto di sottomissione, qui nel 1993, in 15 anni in questo porto sono passate tante idee, tanti problemi, tante possibili soluzioni. Devo dire che negli ultimi due anni è cambiato tutto. L'avvento del gruppo Ligresti ha modificato incredibilmente quelli che erano i rapporti tra comune e pubblica amministrazione. Abbiamo trovato un interlocutore che aveva voglia di realizzare, io mi permetto di dire, non un porto ma il porto, perché questo sarà l'esempio per tutta la regione Liguria, è probabilmente uno dei migliori porti dell'intera Italia. E quindi oggi ci troviamo a presentare quello che fra due anni sarà inaugurato, 1500 posti barca, un porto che, tengo a sottolineare, non ha un metro cubo di civile abitazione e questo fa una grossa differenza su come si fanno gli investimenti nella portualità o in altri settori. E quindi sarà la grande occasione, non solo per la città di Luano, che di tutta evidenza di questo porto viverà, ma io credo per l'intera regione. Siamo sicuramente in grado di offrire uno standard di qualità, direi esclusivo, sotto molteplici punti di vista, sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente, che sotto il profilo dei tecnicismi del sistema degli ormeggi, che sotto il profilo del dimensionamento delle imbarcazioni e dei servizi a terra che vengono svolti attraverso tutte le strutture che abbiamo in corso di realizzazione. Disponiamo di un cantiere navale molto potente, in grado di operare su imbarcazioni fino a 350 tonnellate e di allare barche di dimensioni anche superiori ai 40 metri di lunghezza. Abbiamo una spiaggia che ci consente ulteriori sfoghi durante il periodo estivo e contiamo moltissimo sull'attività del nostro Yacht Club. Io sono andato in comune nell'88, quindi ho seguito il porto dalle sue prime battute fino ad oggi, avrò l'onore come sindaco di inaugurarlo nel 2010. Io spero che questa città comprenda che oggi qua nasce una grande occasione a presto! Grazie a tutti.